Una minoranza creativa presenta Ben Hur di Lewis Wallace, traduzione di Clotilde Massa. Tutti i diritti sono riservati. Libro VII Capitolo V Ben Hur drizzò due tende in riva al Cedron, non lontano dalla tomba dei re. La madre e la sorella avrebbero atteso lì che espirasse il tempo necessario alle purificazioni di rigore. I quattro giorni seguenti furono abbondantemente occupati dalle effusioni materne, dal racconto delle sciagure da cui erano state colpite le due infelici. Il sangue di Ben Hur ribolliva di rabbia e di sete di vendetta, e dalle discussioni sulla personalità e sull'attesa rivelazione di quel misterioso taumaturgo, nel quale già la vedova salutava con sicura fede il Messia dei profeti. Ben Hur, invece, ancora accanito nei propri dubbi, continuava a chiedersi se non si dovesse vedere in quell'uomo un illuminato benevolo, un politico retore, la cui umiltà attuale fosse soltanto astuzia e cautela, o magari il meno volgare degli impostori. Alla vigilia di Pasqua, incapace di resistere più a lungo all'impazienza da cui era invaso, Ben Hur andò in città dopo aver promesso di fare ritorno alla sera. Gli zoccoli di Aldebaran producevano un tintinnio di acciaio sui sassi della strada rocciosa, senza però svegliare nulla nelle case nude e nelle tende disertate, poiché era il primo giorno di Pasqua, e l'ora in cui migliaia di pellegrini riempivano la città, mentre il sacrificio degli agnelli imporporava il pavimento del tempio. Ben Hur scese alla porta del Khan, di dove, più di trent'anni prima, i tre saggi avevano preso la strada di Betlemme. Lasciò in custodia il cavallo e si recò subito alla casa paterna. Ma Luc, Simonide e Baldassarre erano usciti per andare ad assistere alle cerimonie. Mentre Ben Hur si trovava nel salone del palazzo, entrò Iras. A lui sembrò che la nube di etere i veli di cui essa amava drappeggiarsi gliela portasse incontro. Trasalì in preda al fascino di quella splendida apparizione, ma il suo sorriso svanì di fronte all'inatteso cambiamento della fisionomia e dell'atteggiamento dell'egiziana. Non esisteva più ombra delle sapienti civetterie, delle allettanti moine, il cui sortilegio aveva saputo tessere un'abile tela intorno alla sua vanità lusingata. Non si sarebbe potuto accogliere con più incisiva repulsione uno straniero, anche se apparentemente il viso aveva l'impassibilità del marmo. La testolina si arrovesciava all'indietro, le sottili narici fremevano, la curva sensuale del labbro inferiore tendeva in una smorfia impercettibile l'interno arco della bocca. Iras parlò per prima. Capitate veramente a proposito, figlio di Ur. Desideravo ringraziarvi per la vostra ospitalità. Domani sarebbe stato troppo tardi. Egli si inchinò leggermente, ma non distolse gli occhi. Si dice che i giocatori di Dadi a partita ultimata abbiano l'abitudine di tirare fuori le tavolette e di fare i conti. Dopodiché fanno li bagioni agli dèi ed incoronano il fortunato vincitore. Ebbene, figlio di Ur, noi abbiamo giocato una partita che è durata moltissimi giorni. Non decideremo anche noi a chi debba toccare la palma? Sempre sulle viste, Ben Ur rispose in tono fatuo. Quale avversario potrebbe incutere paura alla bellezza risoluta? Iras accentuò la smorfia sdegnosa della bocca. Ditemi, principe di Gerusalemme, dov'è dunque quel figlio di Falegname, non meno che di Dio stesso, dal quale si attendevano ultimamente tante cose? Ben Ur fece un gesto vago. La fine testolina si curvò. La voce divenne stridente. Ha spezzato Roma? Dov'è dunque la sua capitale? Vorrei salutare il suo trono collocato sulle eoni di bronzo. E voi? Come mai vi vedo vestito così modestamente? I vicere o i satrapi non si adattano a tanta semplicità. Ho una gran paura che dovrete aspettare ancora per un bel pezzo il vostro regno. Quel regno che io dovrei dividere. Ben Ur si sforzò di assumere un atteggiamento di glaciale cortesia mentre Iras proseguiva in un flutto di parole amare. Ho visto il vostro Cesare sognatore fare il suo ingresso in Gerusalemme. La processione era bella ma io vi cercai in vano un pegno di regalità. Che so? Un cavaliere vestito di porpora un carro condotto da un guerriero col casco di bronzo qualche superbo condottiero alto come la lancia dietro lo scudo rotondo. Ha ha ha! Invece d'unse sostride reduci da un trionfo invece di un Cesare cinto di lauro ho veduto un uomo con la faccia e i capelli da donna seduto in groppa al figlio di un'asina e tutto piagnucolante. Il re, il figlio di Dio il redentore del mondo. Ha ha ha! Che cosa buffa! Suo malgrado Ben Ur abbozzò un gesto di mortificata irritazione. Io non mi sono mossa dal mio posto principe di Gerusalemme. Non ho riso. Mi sono detta che bisognava aspettare. Fra poco nel tempio egli si sarebbe glorificato. L'eroe vincitore del mondo avrebbe fatto risplendere quella sua gloria quella sua forza che dovevano venire dall'alto. L'ho visto passare per la porta di Shushan e per il cortile delle donne. I portici, i tetti dei chiostri, i gradini delle tre facciate del tempio sparivano sotto la folla e ciascuno tratteneva il respiro in attesa di ciò che sarebbe dovuto accadere. Ha ha ha! Credevo di sentir scricchiolare l'asse rotto della potenza romana. Ha ha ha! Per l'anima di Salomone, principe, il tuo re dei re non ha fatto altro che rassettarsi le pieghe della veste e poi se n'è andato senza pronunciare una sola parola. Roma regna ancora. Ben-Hur abbassò il capo. Quei sarcasmi risvegliavano in lui troppi degli antichi dubbi per non turbarlo di una amarezza che avvelenava ancora quella bocca da cui uscivano. Bocca da lui baciata un giorno. Si riprese con uno sforzo di dignità per rispondere. Figlia di Baldassarre, se è questo il gioco di cui parlavate, avete vinto la posta, ve la lascio, ma facciamola finita. Io ignoro il vostro scopo, chiedo di conoscerlo e poi me ne andrò. Vi ascolto, ma vi prego, lasciamo da parte del soggetto delle vostre ultime parole. Ella lo guardò fissamente come se fosse incerta sulla determinazione da prendere. Alla fine disse freddamente, va bene, potete andarvene, addio. Mentre egli varcava la soglia, lo richiamò, ha ancora una parola, principe di Gerusalemme. Ben-Hur si voltò. Ricordatevi di ciò che io so. Cosa sapete dunque, bella egiziana? Ella ebbe uno sguardo distratto. Voi somigliate assai più ad un romano che ai vostri compatrioti, figlio di Ur. Questo mi commuove, potrei persino avere la tentazione di salvarvi. salvarmi. Le unghie tinte di rosso giocavano con non curanza intorno ad un ciondolo. La voce dolcissima parlava al di sotto del tono normale. Solo il ritmico battere di un piedino nervoso e morbido nella pantofola di seta avvertiva di stare in guardia. Ci fu una volta un giudeo, un galeotto evaso, che uccise un uomo nel palazzo di Dernea, cominciò irastranquillamente. Ben Ur trasalì. Quello stesso giudeo possiede tre legioni venute dalla Galilea, le quali stasera devono impadronirsi del governatore romano. Egli è anche alleato dei nemici di Roma. Lo sceicco il Derim è uno di questi. Vi basta? La donna si avvicinò e mormorò in un soffio. Voi conoscete Roma, figlio di Ur. Cosa si direbbe laggiù se si conoscesse tutto questo? Davanti alla carezzevole minaccia di quella voce, egli indietreggiò come di fronte ad un rettile che si fosse improvvisamente trizzato dinanzi a lui. E se si facesse sapere a Seiano con tanto di prove o magari anche senza che quello stesso Giudeo è l'uomo più ricco di tutto l'Oriente di tutto l'Impero anzi che cuccagna per i pesci del Tevere e che bei giochi in seguito per la plebe romana colto da vertigine davanti all'abisso inaspettatamente aperto ai suoi piedi Benur rispose per compiacervi figlia dell'Egitto riconosco la vostra abilità e mi dichiaro alla vostra mercè quanto al vostro favore non vi aspiro potrei uccidervi ma siete una donna dinanzi a me si apre il deserto dove Roma non mi raggiungerà non voglio farvi perdere tempo seiano non deve aspettare il deserto è più paziente si accomodava in testa il turbante e la tese il braccio e gridò aspettate egli esitò gli anelli scintillavano sulla carne ambrata restate e non abbiate timore figlio di Ur iside tutti gli dei d'egitto mi sono testimoni che tremo all'idea di vedervi nelle grinfie dell'implacabile ministro siete così prode e generoso ah sì vi compiango accordatemi solo ciò che vi chiedo ed io vorrò salvarvi ve lo giuro per iside e la parlava con volubile animazione e mai era stata più irresistibile macchinalmente Ben Ur la guardava lottando contro il fascino e il sospetto una volta all'epoca della vostra adolescenza avevate un amico figlio di Ur dopo un litigio diveniste nemici ed egli vi nocque molto più tardi l'avete ritrovato ad Antiochia nel circo Messala sì Messala egli è rovinato le enormi scommesse impegnate in occasione di quelle maledette corse hanno indiottito tutte le sue ricchezze dimenticate il passato figlio di Ur salvate Messala dalla miseria pensate che egli deve strisciare sulle membra rattrappite e che da terra alzerà gli occhi su di voi vedendovi passare oh Ben Ur nobile principe per un romano della sua razza è peggio mendicare che morire salvatelo a Ben Ur parve di vedere al di sopra della spalla di quella donna il sorriso crudele sempre canzonatore del suo mortale nemico domandò fu dunque Messala stesso ad incaricarvi di questa richiesta egli è di nobile animo e vi ha giudicato alla sua stessa stregua Ben Ur prese la mano che si appoggiava al suo braccio poiché lo conoscete così bene bella egiziana ma basta di questo se avete ancora qualcosa da dirmi parlate parlate in fretta mi raccomando perché per il dio di israele non rispondo di sapermi ricordare più a lungo che siete una donna e che sorridete nella mia collera finirò per vedere in voi solamente la spia di un padrone tanto odioso in quanto è romano su via sbrigatevi a finire il vostro discorso con un gesto violento iras respinse la mano di lui fece un passo indietro e tutta la perversità della sua indole parve scatenarsi vile bevitore di fango e mangiatore di ghiande tu credi che dopo aver visto messala ti si possa amare i tuoi simili sono nati per servirlo in ginocchio capisci sappi che gli occorrono venti talenti adesso io non supplico ma ordino venti talenti pagherai l'onore che ti ho fatto di sopportare la tua vicinanza messala voleva così simonide è il tuo intendente non è vero ebbene se domani a mezzogiorno io non avrò la tua firma per venti talenti da consegnare a messala seiano disporrà di te addio andava verso la porta ben ur le sbarrò il passo ascoltami quando vedrete messala oggi o domani a roma o a gerusalemme ripetetegli quel che ora vi dirò ditegli che sono rientrato in possesso della mia sostanza compresi i sei talenti che egli rubò nei cofani di mio padre ditegli che sono sopravvissuto alle galere alle quali egli mi fece mandare e che con tutto il mio attuale vigore mi rallegro di saperlo ridotto in povertà ditegli che considero la sua disgrazia fisica come un castigo di dio più grave della morte stessa ditegli che mia madre e mia sorella dopo essere state rinchiuse nella torre Antonia per morirvi di lebra vivono e sono guarite perfettamente grazie a quel nazareno che voi disprezzate ditegli ricordatevi bene di dirglielo che nemmeno seiano può spogliarmi dei miei averi perché ho venduto tutto e il mio denaro circola inafferrabile in tutte le agenzie dell'universo sotto forma di cambiali quanto poi ai terreni alle navi e alle carovane da cui simonide ricava la sua ricchezza e la mia sono coperti da garanzie imperiali pagate a peso d'oro seiano ha la debolezza di preferire un guadagno ragionevole a quello che si raccoglie nell'incertezza della frode e del sangue ditegli infine che quando anche egli riuscisse ad impadronirsi delle nostre tratte di giudea e quando anche trovasse il modo di realizzarle mi rimarrebbe ancora una risorsa una donazione a cesare vedete egitto che ho ben imparato le lezioni degli atri di roma e come conclusione ditegli che alla mia sfida non unisco la mia maledizione verbale ma che impegno più eloquente ancora del mio inestinguibile odio gli invio tutte le maledizioni della terra contemplandovi mentre voi gli riferirete queste cose o figlia di baldassarre egli riconoscerà chi io non ho nominato ed ora andatevene me ne andrò anch'io l'accompagnò sino alla soglia sollevò la tenda affinché essa passasse con uno scrupolo di studiata cortesia e mentre ella spariva le gridò dietro la pace sia con voi ben ur uscì a passilenti dalla sala il colpo era stato rude la sua mancanza di chiaroveggenza l'irritava ricordi e tardive giustificazioni si affollavano alla sua mente come aveva potuto non capire per tanto tempo l'astuzia e i raggiri di quella donna venduta indubbiamente anima e corpo a messala provò un certo sollievo nel constatare che la sua vanità era la sola a soffrire dio sia lodato gridò infine a voce alta quell'egiziana non ha preso su di me l'ascendente che mi avrebbe reso cosa sua adesso mi accorgo che non l'amavo salì macchinalmente la scala che conduceva alla terrazza del tetto un pensiero improvviso lo fermò al primo gradino era un sospetto possibile che baldassarre sia complice di questa ignobile commedia respinse subito quel dubbio la cui assurdità era lampante l'ipocrisia sotto quella maschera di venerando credente no no ben ur alzò le spalle e ricominciò a salire la luna piena smorzava le luci rossastre accese in ogni parte della città ai crocicchi e nelle strade le antiche melopè di israele salivano con le fiamme e con l'odore dei fuochi di pasqua quella pace e quella allegrezza ricondussero in lui più serena nel contrasto delle emozioni da cui era ancora sconvolto l'immagine del nazareno pensò se non è lui che deve venire a vendicarci di Roma il dio di mosè manderà un altro meno clemente io andrò in Galilea dovrà pur venire il momento di combattere l'interno del padiglione di riposo quando ben ur vi entrò era immerso in una dolce penombra il giovane distinse vagamente la poltrona di Simonide orientata verso un punto insolito dell'orizzonte è già rientrato si disse se non dorme gli parlerò si avvicinò senza far rumore allungando il collo al di sopra dello schienale scorse Esther rannicchiata sul sedile piccola piccola sotto la pelliccia con la quale il padre si copriva le ginocchia dormiva i capelli sciolti le ricadevano sul viso respirava con affanno ben ur sentì che un suo sospiro finiva in un sigliozzo pareva che quel sonno riposasse un dolore piuttosto che una stanchezza coi gomiti appoggiati al dorsale egli pensò non la sveglierò non ho nulla da dirle se non il mio amore che differenza fra lei e l'altra chissà se mi ama chissà dolce Esther il mio cuore è sempre stato tuo uscì in punta di piedi e l'altra domanda e l'altra Grazie a tutti